ciao ragazzi bene allora una cosa che sono sicuro che avrete fatto ieri ma sono proprio sicuro e mangiare come dei maiali perché d'altronde quello che ho fatto io come tutti i natali bene stamattina mi sono alzato e ho pensato di riprendere queste serie di dieci perché noi dovremo avvalerci di una coppia di cani da guardia per proteggere la nostra casa singola con giardino questi perché ci terranno compagnia in tutte queste vacanze perché noi individuate 25 ve ne ho già parlato nei filmati precedenti e oggi vi vorrei parlare del sesto l'individuato perché noi non siamo più capaci a difenderci e questo i ladri lo sanno ci tengono d'occhio aspettano il momento che noi siamo distratti per qualcos'altro intervengono in quel caso sarebbero solo una coppia di cani da guardia efficace a poterci salvare o meglio ancora ad aver già fatto cambiare idea i ladri di prendere di mira la nostra casa con giardino quando magari giorno prima qualche giorno prima ci stavano pensando non so se avete visto ve l'ho postata anche sulla pagina cani da guardia e sicurezza che la vigilia di natale c'è stata una rapina in villa e che non si è ancora capito se questa signora anziana sia morta di infarto l'abbiano uccisa loro questa è una botta che mi sta dando scoppio junior perché non mi prega niente del mio filmato quando vedete qua non so se lo riuscite e vuole che pensi a lui e le vada a dar da mangiare solo che gli ho portati qui a fare due corse nella neve stanotte ha dato una piccola nevicata e quindi oggi uscito un sole fa un freddo da polo nord però questo con questo sole si sta veramente bene non so vi dicevo non si è ancora capito se sia stata una questione che sia stata uccisa questa signora oppure abbia preso un infarto fatto sta che anche la sera di natale una rapina in villa è andata a finire male e poi vi ricordate no quando questi sciagurati sono entrati nella villa di paolo rossi che loro erano al funerale quindi se voi avete una casa singola con giardino per quanto possa sembrare a voi insignificante meno bella di altri sono così tante le persone che oggi delinque erano nel nostro paese anche se la televisione ne parla poco per tutta una serie di motivi ben precisi prima o poi qualcuno la prenderà di mira il problema non è quello che li andranno a sottrarre che ormai lo sappiamo benissimo che ci siamo più o meno attrezzati di tutto ciò c'è nel togliere tutto ciò che era di più prezioso nella casa sono i bambini eventualmente la moglie ma quando io dico questo viene un po da ridere perché escludo sempre i mariti perché dopo per scontato che i mariti fossero presenti farebbero qualcosa per salvare la famiglia ma in realtà non è così perché sia le persone che intervisto io dopo le rapine perché ormai da tanti anni sono nella sicurezza abitativa anticrimine ho blindato tantissime case mi sono occupato in passato con la mia azienda che si chiamava sicuro di mettere al sicuro le famiglie prima di occuparmi solo di cani e quindi chiamavano anche me spesso per avere un parere e quando intervistavo loro sull'accaduto quasi sempre gli uomini di famiglia diciamo non siamo reagiti perché abbiamo pensato i nostri familiari no siccome io mi sono anche occupato da giovane per tanti anni di arti marziali e tra l'altro uno di quelli che era il mio allievo oggi era uno dei più grandi esperti lui si è specializzato in questo proprio di difesa della persona e lo fa a un determinato livello prepara anche corpi militari eccetera e mi viene da ridere dicono tu non hai difeso la famiglia perché a volte ti sei cagato più sotto tu di tua moglie e magari dei figli messi insieme perché ormai il nostro popolo è così no ci hanno inculcato non vi ricordate per quanti anni ci hanno detto se uno ti dà uno schiaffo tu non hai il diritto di difenderti tu devi chiamare i carabinieri se questo ti fa questo devi fargli una denuncia perché nel momento che tu ti difendi passi nel torto quindi un po perché ci siamo indeboliti come popolo un po perché ci hanno inculcato questo fin da bambini oggi noi non siamo preparati a difenderci nel modo più assoluto ma specialmente a difenderci da quelli che venissero solo nella nostra villa con giardina senza armi anche solo prendendoci a calci e pugni ma noi non ce la facciamo reagire non voglio dire tutti ma pochissimi compresi quelli che magari si specializzano nelle arti marziali perché un conto è fare le arti marziali per lo sport un conto è poi mettere in pratica in uno stato di panico generale le cose che più o meno si sarebbero dovute imparare quindi sicuramente noi non siamo in grado di difenderci da chi entra nella nostra proprietà e sicuramente chi entra lo fa così facilmente in modo spudorato e sfacciato che non ha paura non ha minimamente paura neanche di quegli idioti che quando io metto i miei filmati dei cani scrivono il mio cane da guardia si chiama calibro 18 ma idiota ma proprio tu che scrivi questa cosa sei il più grande cagone del mondo perché chi è sicuro di se stesso non perde tempo a girare sui social andare a infilare i commenti tu cerchi una come si dice conferma su una sicurezza che non hai mettendo quel commento ti senti un qualcuno proprio perché sei un debole perché le persone che sono sicure di loro stesse non hanno bisogno sicuramente di farsi vedere che loro sarebbero in grado di farlo e tutte queste cose lo sanno le persone che delinquono per mestiere perché loro invece non sono persone che hanno paura di noi semmai possono avere paura di quei cani che indipendentemente da come la loro faccia qual è il loro accento la lingua che parlano come si presentano eccetera per una questione di istinti non hanno paura non si prendono paura e questo possono solo essere i cani da guardia ma non quelli che noi addestriamo al campo di addestramento quelli che vengono selezionati all'interno di una cucciolata e dimostrano già fin dai primi mesi di crescere con questa predisposizione poi bisogna ottimizzare le condizioni ambientali bisogna cercare di non rovinarli questo temperamento ci bisogna far tante cose ma loro sono già nati così sono nati un po come questi delinquenti che adesso che sono momenti di difficoltà scelgono di risolvere il loro problema economico mettendo in atto degli atti appunto criminosi che cos'è che noi facciamo il fatto che noi non siamo in grado di difendersi basta vedere come reagiamo adesso molti sono convinti che la chiusura dell'attività sia ingiusta e qual è la manifestazione che in modo ormai ossessivo e anche noioso e opprimente continuano a postare sul loro profilo facebook perché la nostra rivoluzione che sappiamo fare è solo quella che è ingiusto oppure condividono tutti quelli che gli danno ragione che fanno dei discorsi seguono tutti i programmi che gli sembra che se qualcuno dica il governo sta facendo una cosa ingiusta allora qualcuno si sveglierà manco li tenessero in considerazione cambieranno le cose in realtà lo sappiamo tutti no che questa pandemia ci ha creato dei problemi e questo lockdown che dovremo subire in questi dieci giorni sembra fatto apposta perché tutti facciano quel che cazzo che vogliono e le attività commerciali si impoveriscono ulteriormente e come ci defendiamo da tutto questo che cos'è che facciamo postiamo su facebook e questo lo sanno i ladri siamo un popolo estremamente indebolito di lamentosi di gente che adesso passeranno questi dieci giorni che non potranno uscire di casa su facebook dove pensate che lo passano guardando quei programmi dove qualcuno ci attira attira tutte le persone parla male di questi provvedimenti del governo nel frattempo si vende la pubblicità quindi noi non siamo in grado di difendersi dobbiamo lasciare che lo facciano i cani siamo diventati un popolo in quel senso di indipendentemente da cosa commentiamo da quanto grandi ci vogliamo far vedere di incapaci alla reazione e questo è ciò che sottopone noi le nostre famiglie al maggior pericolo come vi ho detto altre volte vivere in una casa con giardino come quella che ho io in mezzo alla natura è uno spettacolo però come tutte le cose positive hanno delle controindicazioni sotto il profilo della sicurezza specialmente adesso e da adesso in poi sarà un dramma per il fatto che saranno le prime a essere prese di mira bene era così per dirvi perché vi ho messo che il sesto perché voi dobbiamo noi tutti dobbiamo ma io lo faccio da tanti anni difendere la nostra casa singola con giardino con dei cani da guardia efficace è quello perché non ci sappiamo difendere inoltre vi voglio ricordare che fino al 6 di gennaio io consegnerò e ho messo così siccome voi non potete venire la consegna gratuita dei miei soggetti da guardia in tutta il nord italia e il centro italia così almeno esco anche un po di casa io e non ho bisogno di rimanere sempre qui anche se da fare se no ed è anche un po un piacere stare con questi cani comunque vi do questa opportunità anche oggi vi saluto e vi auguro a tutti buona giornata a presto